Ci sono voluti 25 anni per arrivare all'adozione in consiglio comunale. Ora il Piano Urbanistico Comunale di Zuaia sta vivendo una nuova fase, quella delle integrazioni, che potranno muoversi all'interno di due linee di demarcazione precise, l'impossibilità di ulteriore espansione urbanistica e la valorizzazione degli aspetti ambientali e turistici. Il Piano ha già recepito alcune indicazioni ricevute dalla Regione Liguria in merito alla fascia costiera. Era previsto ancora un approdo turistico che indubbiamente contrastava in qualche maniera con il piano di assetto della costa Ligure, col piano paesistico, presentava delle problematiche come presentavano le problematiche anche alcuni altri interventi di nuova edificazione soprattutto e che invece in questa fase sono stati totalmente cancellati. Nel Piano sono contemplate azioni che possano valorizzare l'ampia fascia collinare con iniziative mirate alla valorizzazione turistica. Le reti escursionistiche di particolare valore che sono presenti nel Comune, anche per esempio attraverso la previsione che il Piano conferma, secondo una variante che il Comune aveva già adottato qualche anno fa, della possibilità di realizzazione di un'area di campeggio, di una struttura ricettiva all'area aperta in Valle Carchea che può proprio contribuire un po' a arricchire l'offerta turistica di Zoali. Nel corso dell'Assemblea ai cittadini è stato distribuito un modulo nel quale potranno formulare le loro proposte per migliorare ulteriormente il piano. Mi aspetto appunto che ci sia altrettanto interesse per quanto riguarda le osservazioni. Le osservazioni potranno essere consegnate fino a quasi alla fine del mese di aprile e dovranno essere ovviamente di carattere generale, cioè andare a vedere all'interno del PUC che stasera viene presentato ma che comunque è disponibile nell'archivio, nel sito comunale e le persone potranno verificare se c'è o non c'è una certa direttiva di interesse però generale, diciamo un orientamento generale non privato.